Orbita sincronizzata Lancio a Helpo, avviato Lancio a Helpo, avviato Sei il meglio del meglio Chiedo armi avanzate Richiedo armi avanzate Richiedo un Helpo Richiedo armi avanzate Nord ovest Helpo, scomperare l'area Di soli, scomperare l'area Perfez di soli, scomperare l'area Perfez di soli, scomperare l'area Noncatticpitpitpitpitpitpitpitpitpit fungus Navigargo! Chiedo supporto aereo! 10 minuti alla fine della missione. Richiato sentinella! L'obiettivo individuato, Nord-Ope. Sento! Vado, attacca! Lo prendo! Inviato Rigo! Nord-Ope, 100 metri. Supporto aereo! Trovato qualcosa? Pickle One, riarmo. Torno presto. Delta Qu favour home, Blue. 200 metri. 36 metri. 3 metri. Turminator. Avivенная aereo! Tantacca al Sur, P 25, F weiß-Count! Vi gather all wins! richiesta di attacco orbitale Sassante, ovest, vicino 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 Le chiedo attacco orbitale! Fatemi avanti! Distrazione disponibile! Comparto aereo! Enviate un Eagle! Pesante, l'est! Quanta metri! Supporto aereo! Le chiedo detrazioni! Navigato! Inviate un Eagle! Consegna del carico! Le chiedo un'estrazione! Chattel di estrazione in arrivo! Orbitale in arrivo! Le chiedo un'estrazione in arrivo! Le chiedo un'estrazione! Le chiedo un'estrazione in arrivo! Le chiedo un'estrazione in arrivo! Le chiedo! Le chiedo un'estrazione in arrivo! Mi chiedo una sentinella Diviate un Igor Attenzione, siete a tiro dell'artiglieria nemica Avanti, facevi avanti Mi chiedo sentinella Attenzione, siete a tiro dell'artiglieria nemica Ricciardo Richiesta di arma ausiliaria Porto a E Un minuto e trenta secondi all'arrivo Richiedo sentinella Attenzione, siete a tiro dell'artiglieria nemica Attenzione, siete a tiro dell'artiglieria nemica Un minuto all'arrivo Avamposto botte individuato Trenta secondi all'arrivo 20 secondi all'arrivo 10 secondi all'arrivo Liberare l'area Pelican 1 in arrivo Pelican 1 in arrivo alle coordinate Pelican 1, preparazione all'atterraggio Navigato Conto alla rovescia iniziato Pronti al decollo Affermativo Estrazione completa Pelican 1 inizia la risalita La democrazia prevale Prevale Distroire alleato Lascia la squadra Poder Perversa Perversa Ped lizard Perversa 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 Animat Presidente all'arrivo Grazie a tutti.